Buonasera professoressa Ponzani, lei è una storica, è una docente a Tor Vergata a Roma, è una saggista. Allora, il presidenzialismo è una battaglia storica della destra, anche della destra italiana. Allora, chiedere più poteri per il Presidente, che sia del Consiglio, che sia della Repubblica, e avere più potere, è in contrasto in qualche modo con i principi della nostra Costituzione? Beh, allora, prima si citava Piero Calamandrei... Eletto direttamente dal popolo. Eletto direttamente dal popolo, allora, intanto bisogna dire che Piero Calamandrei era a favore del presidenzialismo, perché pensava che fosse stata la debolezza dello Stato liberale ad aver permesso a Mussolini di andare al potere, e non, diciamo, l'eccessiva forza. E poi dovremmo dire che, diciamo, questa è un'occasione storica per Giorgia Meloni, in tutti i sensi. Perché? Non solo perché per la prima volta a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio c'è una donna, ma perché c'è quella destra di derivazione missina, che può diventare destra costituente. Cioè può farsi destra costituente, riscrivere la Costituzione, e portare, diciamo così, a compimento quello che era il progetto, che è sempre stato il progetto del Movimento Sociale Italiano. Giorgio Almirante lo ha sempre dichiarato, lo dichiarò sempre, che era il presidenzialismo, il rafforzamento appunto del potere. In questo caso sarebbe anche il rafforzamento però della leadership di Giorgia Meloni, che non è poca cosa, perché si trova ad affrontare tutta una serie di questioni che evidentemente non riesce ad affrontare molto e sulle quali sembra abbastanza debole. Quindi sicuramente è una svolta storica. Una svolta storica, le disse. Allora, la stabilità non viene dall'investitura popolare, ma no, ci sono tantissimi sistemi democratici con tantissime forme istituzionali diverse. La Francia è stabile con il presidenzialismo. Allora, intanto voglio ricordare una cosa, che l'orrendo Rosatellum, la legge elettorale, fu votata anche da una parte del centrodestra. Giusto così per dire che poi... Non c'è dubbio, ma chi l'ha proposto? Il PD. Ho capito, chi l'ha votato? Mi interessa sapere chi l'ha votato. Potremmo forse dire che il PD ha rinunciato facilmente alla propria identità e mentre la Meloni e la destra l'identità non rinuncia affatto e infatti porta il tema del presidenzialismo in questo dibattito. Possiamo anche dire però che non è detto che il presidenzialismo, il semipresidenzialismo, di esempi ne abbiamo tanti, garantisca appunto la stabilità. Prendiamo per esempio il tema della coesistenza difficile che, non so, mi ricordo un certo Chirac nel 1995 che si trovò poi a dover affidare l'incarico di governo a Jospen che era esattamente rappresentante dell'opposto socialista. Quindi non è detto che questi sistemi... Sì, appunto, devono esistere dei contrapesi in una democrazia. E infatti quello che diceva Lashlein era interessante perché lei si richiamava ruolo dei partiti, cioè rafforzare il ruolo dei partiti all'interno della nostra democrazia perché la nostra democrazia repubblicana nasce proprio attraverso il ruolo che i partiti si danno come rappresentanza della volontà popolare. Grazie Michela Ponzani, ricordo il suo nuovo libro, Processo alla Resistenza, pubblicato in audio.